È una settimana di analisi, riflessioni, duro lavoro in palestra e in campo. Perugia è partita male in Superlega, ha sorpreso tutti in negativo. E adesso proverà a cancellare gli errori, tanti, soprattutto nei fondamentali, commessi nella sfida casalinga contro Verona. Nessuno in cassa bianconera si è tirato indietro. Tutti si sono presi le loro responsabilità, a partire dal coach argentino Daniel Castellani. Domenica a Milano contro la revivere dell'ex Alletti e dell'ex RPA Sottile comincia in pratica il campionato di Buti e Compagni. L'avversario è decisamente inferiore sul piano tecnico, ma ci vorrà la migliore Sir per conquistare il primo successo della stagione. Mercoledì prossimo poi c'è l'esordio europeo in Coppa CEV al Palevangelisti contro i ciechi del Carlo Varsko. La squadra del presidente Sirci, preoccupato ma consapevole della forza del gruppo bianconero, figura tra le favorite nella competizione continentale. Nel frattempo i tifosi sono mobilitati per la trasferta di Milano. In questi anni Atanasievic, Giovi, Fromm e tutti gli altri block devils sono riusciti a conquistare sportivi di tutte le età. Perugia è una città innamorata della pallavolo, una città che adesso attende il primo urlo sotto rete.